L'acqua è una risorsa idrica scarsa e preziosissima, per questo dobbiamo fare di tutto per non sprecarla. L'anno scorso, come vi ricorderete, l'Italia ha subito una siccità e un periodo di siccità estremamente duro. Per questo sono state ovviamente adottate delle misure altrettanto drastiche per cercare di preservare questo bene. Da un lato, ACEA è intervenuta immediatamente su tutti gli sprechi della rete idrica, riparando più di 5.000 km di reti e evitando e smettendo completamente di prendere acqua dal lago di Bracciano sin dal mese di settembre 2017. Dall'altro è stato necessario chiudere per un periodo le fontanelle, i famosi nasoni di Roma. Adesso voglio darvi una buona notizia. Abbiamo già ricominciato la riapertura dei nasoni, questo lavoro lo sta facendo ACEA insieme ai singoli municipi che segnalano quali nasoni iniziare a riaprire. Ne stiamo già riaprendo 800 e al ritmo di 250 settimana arriveremo a riaprirne fino a 2150 entro la prima settimana di luglio. Dai prossimi giorni il Comune lancerà una campagna per l'uso responsabile dell'acqua. Sappiamo tutti molto bene che l'acqua è un bene primario e prezioso e non va sprecato e sono certa che insieme sapremo farne l'utilizzo migliore per preservare questa importantissima risorsa.